Di Coldiretti, il servizio di Anna Testa. Stand per degustare e per acquistare, Napoli si trasforma in capitale dei prodotti biologici. In Villa Comunale l'iniziativa Bio Sotto Casa, promossa col finanziamento della Comunità Europea, è realizzata da Lati, Amab e Coldiretti. È un prodotto particolare che per essere veicolato ha necessità di essere conosciuto e conosciuto anche i punti di vendita, quelli sono forse i momenti più importanti. Dai prodotti piemontesi ai siciliani, il biologico traina la ripresa del Made in Italy con un giro di affari di 3 miliardi di euro e con 45.000 imprese agricole che coltivano ed allevano bio sul territorio. In campagna sono oltre 1.500 le aziende interessate per un volume di affari di 90 milioni. Oggi mangiare naturale ha comunque un altro sapore, oltre poi anche a un risparmio di costi. Dallo scorso anno i prodotti biologici europei sono riconoscibili da Eurofoglia, una sorta di marchio che ne tutela la provenienza e l'originalità. E vade dai domiciliari ad Eboli per andare a rubare a Napoli, nell'ospedale pediatrico Santo Bono. Bottino è il portafoglio di una madre che assisteva il figlio operato. L'uomo di 33 anni è stato arrestato.